Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea che racconta cosa significa soffrire per una malattia, per amore o perché non ci si senta al proprio posto nel mondo e cosa significa convivere con gli altri, riconoscersi uguali nella diversità, bellissimi nell'imperfezione. La trama del libro Non chiedermi chi sono, dello scrittore Luca Trapanese, pubblicato dalla casa editrice Salani, è la seguente, Le vacanze, il mare, un amore indimenticabile. Questo vogliono i compagni di scuola di Livio, appena superato l'esame di maturità. Non lui, che dopo aver perso il suo migliore amico per una disgrazia, ha deciso di dedicare la propria vita ad aiutare gli altri. Vorrebbe tornare in India, dove è già stata in missione l'estate precedente, ma si è fatto troppo tardi per partire. E allora Don Gino, il parroco del suo quartiere, ha un'idea, un compito speciale. Dell'arresto non serve andare dall'altra parte del pianeta per trovare qualcuno che ha bisogno di assistenza. Il compito speciale si chiama Vittorio. Ha 30 anni, una famiglia rispettabile, un'intelligenza rara, un futuro professionale sulle orme del padre. Vittorio però ha subito un forte stress, così almeno lo chiama sua madre. E qualcosa in lui si è rotto. Sta chiuso nella sua stanza da mesi, con le tapparelle abbassate, la barba lunga, sempre gli stessi vestiti, spaventato dal mondo esterno e da alcune voci che gli dicono delle cose. Era un genio, si mormora in giro, ma adesso è pazzo. Eppure in lui, nel mistero del suo dolore, Livio troverà non soltanto un prezioso amico, ma la forza per affrontare i propri problemi, l'ansia di crescere in una società che non ammette deviazioni dalla norma. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami per favore a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla. Per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale.